Allora, mettiti comodo perché sto per raccontarti un bel po' di cose che stanno succedendo in Terra Amara, una di quelle serie che ti tengono incollato allo schermo, sai? La storia si fa davvero interessante quando si parla di Mehmet Cara. Ti suona familiare, vero? Beh, sembra che la sua vita stia per diventare un libro aperto e tutti stanno aspettando di leggere i prossimi capitoli. Tutto comincia in una giornata che sembrava come le altre a Sukurova, ma che presto si sarebbe rivelata tutt'altro. Vahap, uno dei personaggi di cui si parla tanto ultimamente, si trova al centro dell'attenzione per una questione piuttosto spinosa. Immagina un po', lui e Mehmet hanno avuto un confronto piuttosto acceso, uno di quei battibecchi che ti fanno capire che tra loro c'è qualcosa di più di una semplice antipatia. Ora, la cosa si fa ancora più succosa. Vahap, che non è certo noto per la sua discrezione o per il rispetto della privacy altrui, ha fatto una cosa che non si fa proprio. Si è intrufolato, proprio come un ladro nella notte, nella stanza di Zuleia mentre lei dormiva. Si, hai capito bene. E chi è Zuleia? Una donna di cui Mehmet tiene molto, per usare un eufemismo. E qui la situazione diventa bollente. Mehmet viene a sapere di questa incursione notturna di Vahap e, come puoi immaginare, la sua reazione è tutt'altro che tranquilla. Immagina la scena, Mehmet, con gli occhi che scintillano di rabbia e il petto che si solleva e si abbassa per la furia, mentre cerca di capire come reagire a questa violazione della privacy di Zuleia. Non è difficile immaginare il mix di emozioni che deve aver attraversato Mehmet in quel momento. C'è la rabbia, certo, quella è palpabile, ma c'è anche un senso di tradimento, di violazione di un confine sacro. Zuleia non è solo una donna qualunque per Mehmet. Lei rappresenta qualcosa di molto più profondo e personale. Evahap, con il suo gesto sconsiderato, ha calpestato non solo la privacy di Zuleia, ma anche il rispetto che Mehmet si aspettava da chiunque nei confronti della sua sfera personale. La tensione è alle stelle e tutti si chiedono cosa succederà dopo. Mehmet, con la testa calda e il cuore in tumulto, dovrà decidere come gestire questa situazione delicata. E una cosa è certa, le conseguenze di questo battibecco non si limiteranno a un semplice scambio di parole. In terra amara, le cose hanno sempre il modo di complicarsi e questa volta non sarà da meno. Quindi, tieniti pronto, perché la storia di Mehmet, Vahap e Zuleia sta per prendere una svolta che nessuno si aspetta. Dopo questo confronto un po' acceso, Vahap decide che è il momento di smascherare Mehmet davanti a tutti quelli di Sukurova, raccontando la verità su chi sia davvero Hakan. Ma indovina un po'? Nessuno gli crede. Anzi, finiscono per prenderlo in giro. E poi, c'è questa storia di Vahap che racconta ai suoi amici dal barbiere il posto giusto per scambiarsi le ultime novità di quando era in Libano. Tutti sono curiosi di sapere di Hakan, che sembra sia stato anche lui da quelle parti. Vahap ne approfitta per fare il gradasso, dicendo di avergli salvato la vita. Ma poi arriva Mehmet e cambia tutto il discorso. Zuleia, poverina, racconta a Mehmet dell'intrusione di Vahap e Mehmet va su tutte le furie. Confronta Vahap, lo mette al suo posto e Ghili dice di stare alla larga da Zuleia. Vahap, che non è tipo da prendere sotto gamba queste cose, pensa subito a come vendicarsi. Ora, immagina la reazione della gente. Alcuni si fermano per ascoltare meglio, altri ridono sotto i baffi, pensando che Vahap abbia bevuto un po' troppo sotto il sole cocente di Sukurova. Vahap, hai forse preso troppo sole oggi? dice qualcuno, scatenando una risata generale. Un altro aggiunge, dai Vahap, non cominciare con le tue storie fantasiose. E così, quello che Vahap pensava sarebbe stato un momento epico, si trasforma in una sorta di spettacolo comico con lui come involontario protagonista. Tutti lo prendono in giro. Nessuno sembra prendere sul serio le sue parole. Povero Vahap, voleva fare il grande investigatore, ma è finito per fare la figura del pagliaccio di paese. Ma ecco che, in mezzo a tutta questa baraonda, c'è una persona, Fikret, che non ride. Fikret, con il suo sguardo acuto e penetrante, osserva la scena da lontano, appoggiato con nonchalance al muro del caffè. Mentre tutti si divertono a spese di Vahap, lui è l'unico che sembra cogliere qualcosa di più nelle parole di Vahap. E se ci fosse un fondo di verità in quello che dice, si chiede, strofinandosi il mento pensieroso. Fikret ha sempre avuto un fiuto per i segreti e le verità nascoste, e questa volta il suo intuito gli dice che non deve lasciar perdere. Quando la gente ha iniziato a tornare alle proprie faccende, lasciando dietro di sé solo l'eco delle risate e qualche commento scherzoso, Fikret ha capito che era il momento di agire. Non era tipo da lasciarsi trascinare dalla corrente, specialmente quando c'era in gioco qualcosa di grosso. E questa storia, il dubbio sollevato da Vahap, beh, sapeva proprio di grosso. Quindi ecco Fikret che si mette al lavoro. Non è il tipo che si ferma alle chiacchiere, lui. Inizia a fare il giro del paese con quella sua aria da detective dilettante, ma con l'occhio acuto di chissà cosa cercare. Prima cosa si mette a parlare con chiunque abbia avuto a che fare con Mehmet. Come era Mehmet da giovane? Chiede con nonchalance, fingendo un interesse casuale. Avete notato qualcosa di strano in lui ultimamente? Insinua poi, cercando di cogliere ogni minimo cambiamento nel comportamento di Mehmet che potesse dare indizi. Poi ci sono le visite a sorpresa. Sai, quelle visite che fai quando vuoi cogliere qualcuno di sorpresa, per vedere come reagisce, che aria tira in casa. Fikret si presenta così, all'improvviso, a casa di vecchi amici di Mehmet, quelli che lo conoscono da una vita. Passavo di qui, ho pensato di fare un saluto, dice, ma i suoi occhi frugano l'ambiente, attenti a ogni dettaglio che possa sembrare fuori posto. E le foto? Ah, le vecchie foto! Fikret le adora. Sono come finestre sul passato, che ti permettono di vedere le cose come erano una volta, senza le distorsioni del tempo e della memoria. Si mette a sfogliare album polverosi, a cercare in scatole dimenticate in soffitta. Ogni foto è un pezzo di puzzle che potrebbe rivelare qualcosa di nuovo su Mehmet. cerca di capire se l'aspetto di Mehmet è cambiato nel tempo in modo sospetto, se ci sono dettagli che non quadrano, persone o luoghi ricorrenti che potrebbero nascondere un segreto. Tutto questo, Fikret lo fa mosso da un unico, grande obiettivo, scoprire la verità. Vahap, con il suo modo un po' maldestro di fare le rivelazioni, aveva sollevato un dubbio, un sospetto che ora cresceva sempre di più nella mente di Fikret. Non era più solo una questione di curiosità, era diventata una missione. Doveva capire se dietro le parole di Vahap si nascondeva una verità dimenticata, un segreto che, una volta svelato, avrebbe potuto cambiare tutto. E così, tra un'indagine e l'altra, Fikret si addentra sempre più in questo labirinto di indizi e supposizioni, determinato a trovare quella verità che sembra sempre sfuggirgli tra le dita. Chissà cosa scoprirà, quali segreti verranno alla luce e come cambierà la vita su Kurova una volta che la verità verrà svelata. La storia di Fikret è solo all'inizio e il percorso è ancora lungo e pieno di sorprese. E così, quello che era iniziato come un pomeriggio, come tanti altri a Sukurova, si trasforma in un'avventura investigativa per Fikret, che si ritrova a scavare sempre più a fondo nel mistero di Mehmet Kara, o forse dovrei dire Hakan. Chissà quali segreti verranno a galla e quali sorprese attendono Fikret e gli abitanti di Sukurova. La storia è appena iniziata e chissà dove ci porterà. Insomma, è un bel casino, con tutti questi segreti, vendette e rivelazioni. La tensione è alle stelle e non si sa mai cosa aspettarsi. Ti piace Akangu Musoglu? Preferisci lui o Demir come personaggio? Scrivilo nei commenti. Ricordati di iscriverti al canale e di lasciare un like al video per non perdere le prossime anticipazioni su Terra Amara.